Da domani e per tutta la settimana è consigliabile prestare più attenzione del solito se ci si mette in viaggio. Oltre agli autovelox fissi bisognerà stare attenti ai controlli della polizia stradale. Sulle strade molisane entrerà in azione con il telelaser, il dispositivo mobile che permette di rilevare la velocità anche a distanza. L'intensificazione dei controlli è il frutto della campagna europea congiunta denominata Speed, che ha per obiettivo quello di elevare gli standard di sicurezza stradale attraverso attività di prevenzione, informazione e controllo. In pratica fino a domenica prossima tutte le forze di polizia stradale dell'Unione Europea saranno impegnate contemporaneamente per raggiungere il comune obiettivo di ridurre drasticamente le infrazioni legate al superamento dei limiti di velocità, una delle principali cause degli incidenti stradali con conseguenze gravi. Per l'intera settimana chiunque si metterà alla guida sarà pertanto conscio che il rispetto dei limiti di velocità verrà costantemente tenuto sotto controllo. Le sezioni di polizia stradale del Molise si sono già organizzate, pianificando una serie di servizi mirati sulle principali strade della regione. Tenere gli occhi bene aperti e l'acceleratore al minimo conviene. Oltre ad evitare molte salate e la perdita di punti sulla patente, si mette al sicuro il bene più prezioso, la vita.